Nome? Daniele. Cognome? Lo squadro. Età? 21, quasi 22. Città natale? Milano. Lavoro? Bartender. Classico freestyle? Freestyle. Perché? Perché è un lavoro molto importante questo e farlo in modo classico secondo me non è più di giorni d'oggi. Oggi bisogna andare avanti, vedere il futuro e fare qualcosa di innovativo. Il flair, il freestyle dà il modo per fare l'innovazione. Nome del locale? In questo momento non sto lavorando per un locale preciso, comunque sono un po' un viandante, dai. Cosa ti piace del tuo lavoro? Tutto, la gente, parlare, ridere, poter fare un buon drink, poter far passare alla gente poi i 10-20 minuti che passano al locale in modo molto tranquillo e basta, semplice. Hobby? Baseball, gioco a baseball, mi piace divertirmi quando non pratico flair. Lo stesso flair. Il nome del tuo cocktail absolute? Sapore di vita. Perché dovresti vincere tu? Perché mi sto impegnando tanto, sto cercando di crescere, vorrei che potresti assaggiare questo drink e spero di riuscire ad arrivare dove voglio arrivare. Cosa vuoi dire a chi ti seguirà sul web? Spero che non ci sarei bisogno di votarmi, comunque se mi vorrete votare, fatelo. Dai, un saluto. Ciao a tutti quanti.